Presidente, oggi presentato un'iniziativa a 360 gradi per valorizzare la montagna attraverso i suoi rifugi. La Giunta regionale a breve sosterrà questa attività. Sì, abbiamo approfittato della città alpina, del fatto che Tolmezzo è il nostro campo base per tutto il 2017 per rilanciare appunto il turismo, il turismo lento, il turismo che fa bene alle nostre montagne, che ci permette di proteggerle ma allo stesso tempo di farle diventare anche un volano economico. E così dopo il bando per l'ammodernamento degli alberghi e dopo il fondo fatto lo scorso anno per la manutenzione delle malghe ora facciamo in assestamento un fondo per la manutenzione dei rifugi. Ovviamente partiamo da quelli di proprietà comunale e poi l'iniziativa vorremmo estenderla anche ai gestori cosiddetti privati. Siamo consapevoli che c'è una difficoltà particolare nel fare economia in montagna ed è giusto ed è corretto che vi sia un supporto da parte delle istituzioni affinché queste iniziative si possano poi dopo mantenere da sole.